salve benvenuti nel mio nuovo interattivo questo il mio canale io sono zahira allora voglio iniziare innanzitutto a ringraziarvi tutti proprio veramente tutti per comunque i commenti per insomma per quello per l'affetto con cui mi seguite per i complimenti che mi fate veramente grazie grazie di cuore io sono veramente molto contenta che insomma il mio canale vi piace che insomma trascordiamo insieme così un po ci intratteniamo a vicenda e allora andiamo subito all'interattivo l'interattivo di quest'oggi è cosa accadrà tra di noi quindi faremo una piccola così diciamo un'indagine chiamiamola un'indagine su quello che potrebbe accadere tra voi e la persona che avete nel vostro cuore nella vostra testa allora le varianti sono tre come vedete ho preparato alcune carte che insomma faranno un po da guida a questa domanda sono carte un po miste oggi ho voluto fare una cosa un po particolare diciamo un po diversa dal solito allora ho preso un po di carte miste abbiamo intanto le tre scelte e sono tre tipi di diversi carte quindi abbiamo il quarzo rosa con i tarot muccia poi abbiamo l'occhio di tigre abbinati alle sibille italiane poi abbiamo il cuoricino d'argento abbinato alle normand in tutto questo però ci saranno alcune carte sempre miste degli oracoli angeli del cuore insomma un arcano maggiore dei tarocchi le sibille di nostradamus insomma ci sono alcune così carte degli oracoli per i tre gruppetti abbinati alle carte con cui che ci faranno un po da guida ok quindi fate la vostra scelta se non fate in tempo stoppate il video e prendetevi appunto tutto il tempo che vi occorre allora nel frattempo che io intanto inizio con la prima variante del quarzo rosa e però nel frattempo voglio dirvi che gli interattivi sono sono energie sono stesure generalizzati quindi non possono assolutamente risuonare su tutti quanti voi per chiunque voglia approfondire una situazione che gli sta al cuore è necessario fare un consulto privato ovviamente se vi fa piacere farlo con me potete andare nelle mie informazioni insomma nell'info box e vedere nella descrizione di insomma del dell'interattivo e andare a vedere appunto i miei contatti detto questo voglio anche dirvi che gli interattivi sono sempre validi in qualsiasi momento li vediate per cui non hanno tempo e poi nuovamente ribadirvi che dovete prendere questi interattivi con le pinze perché comunque sono energie generalizzate e non possono assolutamente risuonare su tutti quanti voi però è in dubbio che se insomma vi siete trovati qui in questo mio canale in questo mio video qualcosa all'universo per voi ce la consiglio suggerimento qualsiasi cosa allora la domanda cosa accadrà tra di noi quindi cosa accadrà tra voi che avete scelto il quarzo rosa e la persona che avete nella testa che nei vostri desideri nel vostro pensiero o nel vostro cuore allora io intanto prenderò alcune carte appunto dei tarocchi dei tarot mucia e poi andrò a svelare questi oracoli che ho preparato precedentemente e vediamo poi al fine stesura cosa ci diranno le carte allora cosa accadrà tra di voi abbiamo come fondo mazzo il 7 di bastoni che è una carta comunque di buon auspicio vedete questo è il fondo mazzo ci parla appunto di stabilità sentimentale ci parla anche di insomma situazioni un superamento delle difficoltà allora 10 di spade 8 di bastoni abbiamo il fante di bastoni abbiamo il 6 di denari la carta del mondo è la carta del diavolo ok adesso andiamo a svelare gli oracoli i tarocchi che ho preso in questa variante allora come carta di energia generale abbiamo la carta del carro quindi abbiamo una carta abbastanza positiva no abbastanza anzi molto positiva questa la mettiamo qua così la vedete poi le le sibilie di nostra damus ci parlano del navigatore vedete questo è la carta del navigatore che metteremo qua gli angeli del cuore ci danno la carta perdona e impara gli angeli rispondono cosa rispondono chiedi aiuto agli altri invece la carta le carte degli oracoli ci danno la carta immaginare allora andiamo a vedere cosa accadrà tra di voi e la persona che avete pensato allora quindi abbiamo detto che come energia del fondo mazzo abbiamo questo 7 di bastoni che ci parla di stabilità stabilità sentimentale una carta di buon auspicio e comunque ci dice che ci insomma ci sarà una vittoria nel senso nel superare delle difficoltà quindi comunque c'è un'energia positiva infatti anche la carta che guida la stesa vedete è il carro quindi qua parliamo di una carta molto positiva di una carta molto diciamo propensa al movimento propensa al successo alla soluzione dei problemi e alla lealtà ha un ritorno se la persona che avete pensato non è con voi comunque ha una risoluzione totale o comunque un movimento molto forte verso voi ok anche la carta appunto le sibille di nostra damus vedete ci parlano di un venire un viaggio una nave il navigatore vedete questa carta quanto è bella sono sono sibille molto antiche e ci parla appunto vedete il navigatore no che con la sua nave sta arrivando quindi anche questa carta ci parla di un arrivo è di un arrivo prossimo è interessante per per voi per voi che ascoltate può anche significare arrivo di una persona a voi cara quindi ribadisco se avete pensato ad un ritorno a una persona che in questo momento non è con non sta con voi si è allontanata c'è uno stand by questa stesa parla chiaramente di un ritorno favorevole a patto che però voi perdoniate e imparate la lezione perché gli angeli appunto del cuore vi dicono proprio questo se lasci andare e risani il passato sperimenti più amore nel presente quindi questa carta ci dice che noi dobbiamo lasciare da parte tutto quello che è successo nel passato con questa persona nel nostro passato in generale per poter progredire sentimentalmente nel futuro ovviamente gli angeli rispondono vi indicano la via di appunto cercare aiuto negli altri può essere negli altri un amico un familiare una persona che insomma voi avete fiducia che vi possa dare dei consigli o potrebbe anche essere che questa carta vi voglia dire cercate comunque di andare incontro a questa persona che avete pensato perché comunque non è che noi dobbiamo essere passivi e aspettare le cose che ci vengono dal cielo dobbiamo anche un po' noi come dire a secondare il destino e infatti la carta degli oracoli che ci parla immaginare ci parla di sogni che si possono concretizzare quindi il romanticismo si può concretizzare ma anche diciamo nel senso i sogni romanticismo quando noi immaginiamo a una relazione che vada in un certo modo però questa carta ci dice anche che comunque anche i sogni possono avverarsi e il vostro rapporto può diventare realtà quindi è una carta anche questa di buon auspicio vediamo invece i tarocchi se ci convalidano questi oracoli come dicevo il 7 è una carta ovviamente positiva qui abbiamo un re di spade che ci fa diciamo da dal comando a questa linea di carte quindi parliamo di una persona autorevole di una persona comunque molto di potere molto decisa una persona che anche che può avere dei tratti taglienti insomma un po voler comandare insomma una persona un re di spade il re di spade sempre una persona un po tosta parliamoci chiaro un iper mentale una persona comunque che poco a non ha molta dimistichezza con i sentimenti ad esprimerli non è che non li provi ma non ha dimistichezza ad esprimere i sentimenti quindi parliamo di una persona del segno d'aria bilancia gemelli acquare portarne l'ascendente ma anche non per niente ma avere questa energia allora questa persona c che ci dice che cosa accadrà fra di voi accadrà sicuramente che questa persona come detto dalle carte che vi ho poc'anzi letto si riavvicinerà a voi quindi se questa mi sembra più una stesa di cosa accadrà fra di voi fra voi la persona che avete pensato mi parla più di un ritorno perché questo che questo re di spade comunque verrà anche la carta vedete dell'otto di bastoni ci parla di trasferimenti di equilibrio di preoccupazioni che insomma vanno via di un di piacevole attività no di scambi e quindi ci parla di un qualcosa che ci viene dato il fante di bastoni ci indica che ci saranno delle notizie molto piacevoli per noi e quindi è una carta positiva anche per questo e il 6 di denari ci parla anche di generosità di guadagni e di aver comunque in qualche modo sconfitto il bene il male scusatemi a discapito cioè non a discapito a favore del bene la carta del mondo ci dà un esito veramente positivo a questa stesa anche il diavolo ci parla di un'attrazione di un magnetismo di una connessione molto forte quindi che cosa accadrà fra voi e la persona che avete pensato allora questa stesa ripeto è molto diciamo calza a pennello per quanto riguarda se voi avete pensato una persona con cui vi siete allontanati uno stand by una fine un litigio qualcosa quindi che cosa accadrà fra voi accadrà che questa persona molto presto verrà da voi con intenzioni buone di voler comunque ricostruirsi un qualcosa anche se lui è una persona un po tagliente un po prepotente insomma un re di spade però vuole assolutamente portarvi un qualcosa si farà vivo con un messaggio e vi dirà che vuole con voi la realizzazione e vuole assolutamente la passione indiscutibile e ritornare al quella connessione all'alchimia che vi lega perché abbiamo qui anche la carta del diavolo quindi qua si parla di un ritorno di una passione di un ritorno di una persona che era lontana e quindi un nuovo inizio allora questa era appunto la prima stesa il il quarzo rosa abbinato ai tarot muccia quindi se vi è piaciuta questa stesa e vi siete in qualche modo riscontrati su questa appunto variante mettetemi un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto seconda variante l'occhio di tigre che metteremo qua insieme al gruppo di carte allora abbinati a questa variante dell'occhio di tigre abbiamo le sibille italiane appunto che ci diranno cosa accadrà tra di voi quindi che cosa accadrà tra le persone che hanno scelto il quattro l'occhio di tigre è la persona di loro interesse o la persona che hanno nel cuore quindi andiamo a vedere che cosa succederà a breve poco breve insomma non ho stabilito un tempo ovviamente benvenuti a chi ha scelto la seconda variante mi raccomando gli interattivi sempre con calma prendeteli non possono risuonare su tutti e sono sempre validi da qualsiasi momento li vedete e quindi insomma prendete solo quello che vi riscontra ok e poi volevo anche dirvi che non sostituiscono una stessura personalizzata per chiunque voglia una situazione analizzata più approfondita e vuole un consulto personalizzato negli infobox ci sono i miei contatti allora cosa accadrà tra di voi qui abbiamo la carta del mercante come carta di energia di fondo mazzo quindi qua parliamo di una metà mediazione di un accordo di un qualcosa un contratto qualcosa che deve come dire edificare questo rapporto l'amica il gran signore abbiamo il militare abbiamo il ladro il viaggio e la carta dell'amore allora adesso andiamo a vedere le carte che ho preparato per voi prima e allora abbiamo come energia generale un arcano maggiore e abbiamo l'appeso ok questa è l'energia della stesa le sibile di nostra damus ci parlano dell'anello una carta molto bella per le unioni gli angeli del cuore ci dicono lascia andare il tuo ex siamo là qua che la vedete meglio gli angeli ci rispondono lascia andare quindi qua si ribadisce un qualcosa che dovete lasciare andare e la carta degli oracoli ci dice essere imparziali quindi questa carta ci fa riflettere sull'equilibrio sulle scelte appunto quando si dice no causa effetto c'è ogni scelta ha la sua causa ogni ogni causa al suo effetto quindi dovete stare attenti perché quello che si semina si raccoglie quindi gli scambi devono essere alla pari il dare e l'avere deve essere in parità aspettate che qui la luce incomincia un po a venir meno ok allora vediamo cosa ci dice questa stesa allora intanto come vi dicevo qua questa carta essere imparziali ci parla appunto di un giusto scambio fra due persone qua ci sono due carte che ci dicono di lasciare andare quindi se voi avete pensato a una persona con cui non state insieme oppure state insieme comunque ci sono dei problemi insomma volete sapere degli allontanamenti che cosa accadrà fra di voi è chiaro che non è una persona che avete a vostro fianco potrebbe anche essere ma comunque le cose non vanno bene fra di voi e volete sapere appunto che cosa accadrà fra di voi quindi qua abbiamo due ben due carte gli angeli del cuore e gli angeli rispondono che ci dicono lascia andare addirittura qua ci dice proprio lascia andare il tuo ex quindi teniamo da conto queste due carte che con il riflettere che ogni causa ha un effetto quindi mi viene da dire che voi di questa stesa comunque avete avuto a che fare con un ladro con qualcuno che vi ha ingannato con qualcuno molto duro con voi una persona comunque come come posso dire come se voi avete avuto questo rapporto questo in scambiare con una persona molto a livello militaresca no uno molto così impostato che vuole sempre che le cose vadano come dice lui eccetera uno molto egocentrico molto concentrato su se stesso diciamo che con queste tre carte qui il gran signore militare ladro mi sembra da dire che avete avuto a che fare con un narcisista un narcisista che comunque veniva da voi in maniera così diciamo quasi come posso dire si introduceva in maniera furbesca da voi dandovi amore però in tutto questo cioè vi dava amore voi pensavate che lui vi desse amore ma lui invece vi riteneva un'amica quindi aveva con voi solo uno scopo di interscambio come se come posso dire come un mercante che va al mercato dice tu ti voglio tu te pago c'è così una cosa molto materiale ecco perché comunque l'energia di questa persona era così intanto con la carta del viaggio vedete una persona che probabilmente va e viene dalla vostra vita anche se voi pensavate che fosse amore ecco come si dice pensavo fosse amore invece era un caresse anche se vedete con la carta dell'anello delle sibille di nostra damus questa persona a voi vi ha fatto come dire credere veramente il massimo si è ed ecco poi l'inganno no del ladro vedete vi ha fatto credere delle cose che non poteva mantenere che non ha voluto mantenere forse vi ha promesso anche un amore diciamo lungo un matrimonio un fidanzamento o vi ha fatto credere di essere innamorato vedete vi ha fatto credere di essere innamorato di voi ma in realtà lui vi truffava vi truffava abbiamo il ladro che si introduce dentro casa veniva quando voleva lui faceva quello che diceva lui e soprattutto amava molto se stesso molto vanitoso molto egocentrico molto concentrato su se stesso e a voi in tutto ciò vi considerava solo un'amica quindi la carta dell'appeso che appunto sta a guidare questa stesa vedete e l'arcano maggiore ci parla proprio di blocchi di incertezze di dubbi di confusione di una persona che non sa cosa fare e che quindi rimane così con un tormento interiore appesa a una situazione quindi che cosa accadrà tra di voi tra voi la persona che avete pensato allora accadrà nulla non ci saranno movimenti perché questa persona è bloccata verso di voi le carte gli oracoli vi dicono di lasciarlo andare di a più di a più battute vi dicono di lasciarlo andare vedete lascia andare lascia andare il tuo ex quindi la sua energia è soltanto ingannevole questo uomo vi ha ingannato per cui non solo vi ha ingannato vi ha fatto credere di amarvi non era appunto così in questo momento è bloccato perché ovviamente non può tenere fede a cose che lui ha mentito e se potesse pure farsi vivo lo farebbe solo per avere con voi uno scambio di diciamo di genere avete capito che tipo di scambio quindi da fra voi due non accadrà nulla perché lui non si farà vivo e perché bloccato perché comunque sa di averla fatta brutta e quindi sa appunto cerca di non venire voi dovete riflettere molto perché comunque questa persona per quello che ha fatto avrà ciò che si merita perché voi sicuramente lascerete andare questa persona perché avete capito che per voi è nociva quindi questa era la variante di chi ha scelto appunto il l'occhio di tigre la variante numero due se vi è piaciuta mettete un like se vi siete così riscontrati se vi è risuonato nella vostra storia e non vi siete ancora iscritti al mio canale e fatelo il canale ha bisogno del vostro sostegno allora benvenuti a chi ha scelto il cuoricino vedete il cuoricino d'argento che metteremo qua ecco allora queste sono le carte che dopo andremo a verificare e adesso io mischio le norma che sono l'altro mazzo abbinato al cuoricino appunto d'argento terza variante allora voglio ricordarvi intanto benvenuti a chi ha scelto la terza variante voglio ricordarvi che gli interattivi sono sempre validi in qualsiasi momento li vediate voglio anche dirvi che gli interattivi non sostituiscono mai una stesura personalizzata e se appunto volete sapere qualcosa che vi sta a cuore di qualcuno qualsiasi situazione che vi sta a cuore analizzarla con un consulto personalizzato nei miei contatti ci sono insomma nell'info box ci sono i miei contatti e quindi poi volevo anche dirvi appunto che gli interattivi sono generalizzati quindi non prendetele insomma con con le pinze non possono risuonare in tutti prendetevi solo quello che vi riconoscete ok quindi la domanda cosa accadrà tra di bravoi e la persona che avete pensato qui abbiamo la carta della villa della fontana del parco vedete che metteremo qui è una carta che ci parla di creatività ci parla comunque di essere rincuorati da qualcosa e appunto di raccogliere come dire come se voi in una situazione dove ci sono una serie di persone potete così passare dei momenti tranquilli diciamo così allora abbiamo la carta della torre numero 19 la carta della gran signora 29 poi abbiamo la l'ancora la carta dell'ancora la carta dell'albero poi abbiamo la carta del temporale e poi abbiamo la carta dei gigli quindi andiamo poi anche a vedere gli oracoli cosa ci dicono in questa stesa a quella del cuoricino d'argento allora l'arcano che guida la stesa è il bago il bagatto che metteremo qua poi l'esibile di nostra damus esce lo scrigno gli angeli del cuore ci dicono è sicuro per te amare gli angeli ci rispondono miglioramento di salute e invece gli oracoli rispondono ci dicono sinfonia incompiuta quindi ci parla di una situazione di una questione in sospeso che bisogna in qualche modo rimediare appunto di una mancanza di conclusione quindi come se voi dovete in qualche modo dichiarare dichiararvi a qualcuno o qualcosa oppure dovete accettare le cose così come sono allora quindi andiamo a vedere un attimino che cosa accadrà tra voi e la persona che avete pensato allora intanto questo è un matto scusatemi un mago un bagatto quindi qua parliamo di una persona molto astuta molto abile con le parole anche abbastanza manipolatrice comunque abile anche nell'amore insomma un uomo che sa come conquistare sa come affascinare una donna e sicuramente voi insomma siete rimaste sicuramente affascinate da questa persona e quindi anche se comunque questa carta può anche significare inizio c'è un nuovo inizio quindi comunque insomma voglio dire ci potrebbe essere una ripresa qui si parla di appunto vedete di una torre ecco di una torre ci parla di obiettività di autorità ambizioni insomma comunque qua c'è stato un crollo di qualcosa voi siete rimaste molto colpite no da questa personalità di questo mago vedete così però evidentemente qui qualcosa non è andata come doveva andare perché qua abbiamo queste nubi che ci dicono appunto che come se fosse qualche dubbio qualche confusione o paura o qualcosa questa persona in qualche modo ha lasciato in sospeso questa situazione e non è riuscita a concludere non è riuscito a come dire a realizzare la situazione con voi però in tutto questo che cosa accadrà fra di voi allora ci siccome per voi è sicuro amare vedete perché la carta degli angeli del cuore ci parla di questo è l'esibile di nostra damus ci parlano di un tesoro comunque questa persona nonostante ci sono stati degli allontanamenti delle dei nu delle nubi dei dubbi perché queste due carte sono negative per quando riguarda questa situazione verso di voi però evidentemente ci sarà con la carta dell'energia della festa vedete ci sarà un qualcosa un incontro che avrete con questa persona magari in un luogo pubblico in una festa non so se si fanno ancora le feste ma diciamo per dire dove ci sono altre persone voi potreste incontrare di nuovo questa persona e questa persona potrebbe esternale per voi un miglioramento di questa situazione perché ha capito che per voi ha una passione vedete c'è la carta dei gigli che ce lo dicono è arrivato a una maturità da poter dire tu sei la mia ancora il mio punto fermo cioè lui vuole fermarsi con voi quindi vuole mettere stabilità con voi vedete dopo questo allontanamento della torre lui vuole con voi una stabilità e vuole mettere radici perché vedete questa carta è molto bella dell'albero della guercia grandissima vuole mettere radici con voi anche se comunque voi per ottenere questo miglioramento no qua parla di un miglioramento di salute ma è inteso anche come un miglioramento della situazione in generale se voi volete questo miglioramento comunque dovete in ogni caso accettare la persona così come e soprattutto dovete dichiarare i vostri sentimenti l'uno all'altro quindi ci sarà da riflettere che cosa succederà che cosa accadrà fra di voi accadrà che voi vi incontrerete casualmente o anche per alcuni potrebbe anche essere che lui viene verso di voi però qua mi dice più casualmente quindi vi incontrerete ci sarà un nuovo inizio ok ci sarà un guadagno un dono un qualcosa che nascerà dopo un momento di buio dopo un momento di dubbi e questa persona vi proporrà una relazione più stabile più solida da mettere radici perché ha scoperto questa è proprio la carta vedete del perdono della passione dell'idiglio quindi ha scoperto una nuova passione quindi vuole che voi lo perdoniate vuole migliorare la situazione però comunque questa è una persona fatta in una maniera un po stiamo parlando sempre di un mago quindi voi la dovete intanto accettare così com'è insomma dovete sì rimediare quello che c'è in sospeso ma accettarla così com'è e soprattutto dovete l'uno con l'altro dichiarare i vostri sentimenti questa era la variante numero 3 il cuore d'argento e questo è quello che accadrà tra di voi quindi se vi è piaciuta questa variante mettete un like insomma se vi siete riscontrati se qualcosa ha risuonato con voi e volete iscrivervi al canale io ve ne sarei grata allora questa era il mio nuovo interattivo vedete qua ci sono le tre varianti dunque io vi ringrazio di essere stati ancora una volta con me vi voglio salutare e darvi appuntamento al mio prossimo interattivo ciao